Allora, buongiorno e bentornata alla Ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone. Ministra, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, la vedo, non la sentivo. Allora, vado subito a quelli che sono i temi caldi e che lei ben conosce, e insomma che molti cittadini e su cui molti cittadini puntano l'attenzione. Lei mi pare ha detto che la Pubblica Amministrazione durante l'emergenza ha dato una buona prova di sé. Adesso sappiamo che c'è la recrudescenza del Covid, sappiamo che c'è una forte raccomandazione a tenere, chi può farlo ovviamente, molte persone a lavorare da casa, smart working, e questo riguarda moltissimi lavoratori della Pubblica Amministrazione. Come lei sa e come noi riscontriamo, per esempio, i servizi in diversi comuni hanno dei problemi, c'è un problema per avere anche un appuntamento in presenza. Insomma, ci sono delle ripercussioni sui cittadini. Le chiedo, in questo momento tutto questo rischia di aggravarsi i suoi servizi ai cittadini? No, allora, io ricordo che durante la fase di emergenza pandemica c'è stata la necessità, dal mio punto di vista, di evitare un lockdown anche della Pubblica Amministrazione, per cui la reale alternativa rispetto al lavoro da remoto era zero, cioè la chiusura completa degli uffici pubblici. Nella fase successiva invece abbiamo impostato un lavoro diverso per accompagnare l'amministrazione a mantenere a regime questa nuova modalità organizzativa del lavoro, disponendo chiaramente che siano l'amministrazione a individuare anche quali lavori si possono fare da remoto, facendo attenzione a ruotare le persone che possono fare ingresso all'interno degli uffici e mettere almeno il 50% di persone in modalità di lavoro da remoto. Ma il tutto deve avvenire senza limitare i servizi che devono essere servizi ai cittadini, perché dal mio punto di vista l'amministrazione è funzionale a questo e deve avere questo come scopo primario. Quindi c'è la tutela sicuramente di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni, ma ci deve essere un'attenzione. Io su questo ho fatto già circolari nel periodo estivo per invitare le amministrazioni a fare dei reingressi turnati e a garantire la possibilità per chi ha la necessità di recarsi fisicamente nell'ufficio di andare in sicurezza, ma di avere anche la possibilità di avere l'appuntamento. È chiaro che purtroppo qualora aumentasse il livello di contagi, le misure di sicurezza dovrebbero essere maggiori, ma questo non significa dover dare dei servizi, anzi è una sfida ulteriore per la pubblica amministrazione. Come si controlla il lavoro da casa, adesso usiamo questo termine per capirci la produttività, ma soprattutto l'efficienza in questa fase? In questa fase in realtà il modello è quello precedente semplicemente perché ci andiamo ad innestare su un sistema che era quello delle valutazioni delle performance annuali, quindi quello per chi ci segue da casa e non lo sa, in base alla quale l'amministrazione si dà un obiettivo annuale e sulla base di un obiettivo annuale a fine anno si autodà una valutazione. Il passaggio che secondo me va fatto invece è di dare degli obiettivi più stringenti anche a livello di tempistiche, non solo nell'ottica del lavoro da casa, ma proprio del lavoro intelligente, perché smart working è questo, vuol dire, cioè impostare il lavoro nell'ottica della soddisfazione dell'utente, dare degli obiettivi che siano più stretti, magari settimanali, mensili, semestrali, non solo annuali, perché altrimenti è difficile o quantomeno più facile riuscire a raggiungere l'obiettivo se il tempo di respiro è molto più ampio, se invece è più stringente è anche più facile monitorarlo. Però andrà istituito da gennaio perché rientrerà all'interno del piano di valutazione delle performance. In questo momento, diciamo, emergenziale, a cui ci ha costretto la pandemia, ci siamo inserite con una normativa emergenziale, ma dobbiamo portarlo a regime da gennaio con il piano organizzativo. Certo, senta, noi sappiamo benissimo che la sanità è competenza delle regioni, però per esempio, l'abbiamo detto all'inizio oggi di puntata, l'app Immuni, che hanno scaricato un numero di italiani, molti altri magari dovrebbero scaricarla, è sconosciuto quasi alcune asle, oppure non ci parlano, non comunico con quest'app. Ma come si fa? E questo purtroppo è un problema che in generale ha la pubblica amministrazione. Io lo pongo spesso anche quando parlo con i grandi esperti di digitalizzazione che vengono a presentare alla pubblica amministrazione le alternative che potrebbero avere i servizi pubblici. Io mi chiedo sempre perché un sessantenne, una persona che all'età dei miei genitori, abbia più facilità a collegarsi su un social network e non al sito dell'IMS o del Comune, che invece è quello verso il quale dovrebbe provare più attenzione, visto le proprie esigenze. Quindi queste sono le domande che ci dobbiamo fare oggi. Dobbiamo sicuramente informare le persone, i cittadini, di quanti servizi ci sono anche oggi online. Perché se guardiamo gli indici desi, ma non serve a guardare gli indici desi, è sufficiente parlare all'interno dell'ambito domestico per scoprire che in realtà buona parte dei cittadini italiani non sanno neanche quanti servizi la pubblica amministrazione ha online. Bisogna informarli su questo e sapere che molte cose le possono reperire anche tramite il proprio smartphone o il proprio PC e fare il passo ulteriore per rendere ancora più facili da utilizzare gli strumenti digitali che ci sono a disposizione. Perché spesso è complicato anche per un quarantenne, posso immaginare, per chi ha 70 anni. Sì, anche se ci sono dei settantenni che hanno una dimestichezza e una disinvoltura straordinaria nell'uso delle nuove tecnologie. Senta, due risposte le chiedo su due fatti molto stringenti. Polemica al calor bianco tra la ministra Azzolina, che peraltro è un esponente come lei del Movimento 5 Stelle, e il governatore De Luca. Adesso, al di là della polemica a scuole aperte, eccetera, i sindacati in testa dicono attenzione, perché alle viste c'è il concorso della scuola, il 22 ottobre parte, e molti dicono che è a rischio dal punto di vista del Covid. La sua posizione qual è? Che sarebbe un errore slittarlo dal mio punto di vista. Io comprendo la necessità di fare attenzione su questo per i concorsi. Abbiamo fatto anche dei protocolli con il Comitato Tecnico Scientifico come funzione pubblica. Però non possiamo pensare di prorogare all'infinito un concorso importante come quello della scuola, che serve per introdurre a tempo indeterminato gli insegnanti dei nostri figli. Tutti vogliamo avere gli insegnanti inizio anno e che ci sia una continuità didattica per i nostri figli, poi dall'altro lato però dobbiamo fare attenzione a conservare questo tipo di scadenze. Quindi il concorso in sicurezza è decentrato sui territori perché sarà delocalizzato all'interno delle varie scuole con le misure di sicurezza, ma dal mio punto di vista assolutamente ha ragione il Ministro Azzolina, il concorso deve tenersi. Senti, dal suo osservatorio, poi questa magari non è una sua stretta competenza, dal lockdown ad oggi, visto che si riparla molto di tornare, visto che il Covid è quello che è in questo momento, alla didattica a distanza, è cambiato qualcosa? Gli insegnanti, le scuole sono dotate maggiormente o siamo a marzo e aprile? No, non siamo a marzo e aprile anche perché abbiamo fatto delle norme tra marzo e aprile, abbiamo stanziato delle risorse sia per riuscire a stare vicino alle famiglie che hanno anche difficoltà ad acquistare gli strumenti informatici. Siamo stati vicini alle scuole permettendogli di riuscire ad acquistare con procedure più snelle gli strumenti e gli insegnanti, dal mio punto di vista, hanno fatto uno sforzo grandissimo, anche nella fase emergenziale, per riuscire a garantire la didattica da remoto. Io ricordo che non è facile, perché il settore pubblico è quello che negli anni ha subito più tagli di tutti. E quindi io ho parlato anche spesso con degli insegnanti che facevano, per esempio, educazione fisica. Riuscire a ridisegnare la propria didattica da remoto non è affatto facile, eppure ci si sono messi in gioco e hanno garantito, dal mio punto di vista, quello che era l'obiettivo, cioè non lasciare ragazzi soli, a casa, abbandonati a se stessi. Quindi, d'ora in avanti, qualora si dovesse tornare, le attenzioni sicuramente saranno maggiori e il salto in avanti sarà fatto anche perché il periodo è diverso. Quindi, diciamo, una sperimentazione è già stata fatta. Senta, il suo collega di governo, il ministro Franceschini, che è il capo della delegazione del PD, è arrivata la notizia adesso, già ha chiesto un nuovo vertice, appena il premier Conte torna dal vertice europeo, per mettere in campo nuove misure per contenere il contagio. State pensando a misure più stringenti, a un lockdown totale? Non credo si pensi a un lockdown totale in questa fase. Suppongo che se il capo delegazione del PD ha chiesto un vertice, vuol dire che c'è la necessità ancora di discuterne. È chiaro che l'attenzione da parte del governo è sempre stata altissima fin dai primi mesi, per cui è giusto discuterne, però valutare con la dovuta attenzione e tenuto conto che ci sono anche esigenze familiari ed economiche sulle quali non possiamo sorvolare come se non esistessero. Serve la dovuta attenzione sia alla tutela della salute che alle esigenze economiche del Paese e a quelle economiche delle aziende. Le faccio un'ultima domanda. Qual è lo stato di salute del Movimento 5 Stelle? Insomma, lo sappiamo da una parte i governisti, o almeno così per facilità giornalistica, dall'altra chi chiede un ritorno alle origini, penso a Di Battista che ha detto da soli alle prossime elezioni che ci saranno nessuna deroga al limite dei due mandati. Lei da che parte sta? Io non sto da nessuna parte, nel senso che noi da sempre dialoghiamo in maniera molto cacciarona, per dirla come si direbbe Roma, cioè apertamente, sui giornali, ci diciamo in faccia a tutto quello che pensiamo. Però adesso ci sarà l'occasione degli Stati Generali. Partiremo dalle basi e partiremo dai temi, anche perché dal mio punto di vista non è un fatto di essere governisti, di capire con chi allearsi, di parlare dei due mandati. Noi dobbiamo parlare di temi, anche perché, lo dico con soddisfazione, buona parte dei quasi tutti in realtà. I punti del programma che avevamo, con i quali ci eravamo presentati nel 2013, e nel 2018 sono stati realizzati col 5 Stelle al Governo. Per cui credo che dei punti di programma ulteriori sui quali andare a discutere e sui quali andare a declinare nelle varie fattispecie ci sia da parlare. Ma per il resto, poi si affronterà tutto all'interno degli Stati Generali, che è il punto di raccordo giusto tra la base e chi sta all'interno delle istituzioni. Cara Ministra, grazie come sempre per la sua chiarezza e la sua capacità di sintesi, che sono tutti argomenti molto complessi. Buon lavoro, ovviamente, da parte nostra. Questa è una dota naturale. Grazie, buon lavoro.